Com'era bello, fra Raffaello, io lo voglio rivedere. Il mosa va a strada e torna. Voi dite? Quando un signore vuole. Che c'è? Ma come sarebbe a dire? Non sapete che è successo un miracolo? Ma che miracolo? C'è su, ma voi non avete mai avuto apparizione. So, fintane che fa cifrato da queste parti, non ho mai visto un miracolo. Oh, fra Raffaello, che dici? Io non ho matriato. Lui l'ha avuto l'apparizione. Lui l'ha avuto l'apparizione. Lui l'ha avuto. Lui l'ha avuto. Lui! Lui! Lui... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì.